L'ecopunto per la raccolta dei rifiuti tra Vico Superiore di Santa Sabina e Vico degli Adorno. Siamo nel ghetto ebraico, ai margini del ghetto, siamo quasi in via delle fontane. Sono gli abitanti della zona a denunciare le condizioni in cui si trova il magazzino, in cui vengono tenuti i rifiuti, in cui si possono gettare i rifiuti. Il magazzino, dicono i residenti, viene usato dagli spacciatori, dai tossicodipendenti. Entrando e guardando un po' in giro si notano siringhe, bottiglie che servono a fumare il crack. Sono sempre gli abitanti a raccontare di cosa altro succede in questo magazzino. Pare che giovani tossicodipendenti, donne, si prostituiscono all'interno agli spacciatori proprio in cambio di un po' di droga. Al di là di questo, al degrado è fortissimo ed evidente la puzza insopportabile e tutto quello che viene lasciato per terra nel magazzino, oltre a vomito e urina, racconta benissimo la situazione, cioè quello che succede all'interno.